e qua era? guarda che ramo aspetta te lo tolgo ciao ragazzi allora oggi girettino abbastanza impegnativo sono 23 24 chilometri con quasi 1400 metri di dislivello sul sito che vedete qui potete andare a vedere tutti i giri che sono salvati sul profilo di strava che lascio in descrizione sotto lo faccio vedere si parte praticamente nella zona dell'uscita della superstrada di camerino si sale si va a fare il sentiero delle sirve per risalire ancora e fare la discesa dei terribili che abbiamo visto più volte nei video adesso mi vado a mettere il tutone perché anche oggi fa freschino tutone alpinestar che abbiamo provato in tutte le salse sia con 20 gradi che con 5 gradi oggi ce ne sono 5 secondo me la svolta quando è inverno che c'è fango che c'è bagnato veramente ci si arriva a casa con la con la roba asciutta e puliti sotto lavato con la canna dell'acqua come mentre lavavo la bicicletta tempo un'ora asciutto è una svolta veramente tutto termosaldato non passa una goccia d'acqua bene ci vediamo nel video iscrivetevi al canale e andiamo a fare il giro ormai se passi da lì fai il giro più largo buono stop impressioni a caldo però guarda che figata occhio qua è chiuso no le sirve potete fare le raglie se le facete veloce veloce no le raglie le ho fatte le sirve potete fare c'è un nastro passate sotto ah ok bario oh mani qua la porchetta la birra c'è? no niente niente birra eh per forza ocio ocio regolosetto grande papis il numero eh l'hai mani qua tu? regolosetto grande papis il numero eh l'hai mani qua tu? no no interrapata proprio l'hai mani qua tu? l'hai mani qua tu? come ho come je ne c'era sempre un postile capriolo qua preso ah dentro qua a che vengono su le moto qua a che vengono sui a che vengono sui un giro veramente da sballo oggi di tutto boschi sentieri salite bello tosto a che vengono sui ma guarda che ramo guarda che ramo aspetta ti lo tolgo è giù sotto difficile torna su mille e quattro e dislivello batteria da 500 pivot scogli bellissimo come al solito il giro è il più corto e con più metri di dislivello di quello che c'era sulla carta prendiamo il motore e facciamo tutta a muscolo che spettacolo montagna altro che piste ma guardate la mascherina come cazzo ti vede è allucinante siamo partiti con 5 gradi la mattina col tutone alpinestar belli caldi ovviamente sole adesso ci sono 20 gradi devo dire un po' si suda perché è tutto chiuso però tenendolo bello aperto davanti è fattibile dritto e mezzo vai bella dritto e mezzo riprovaci va avanti va perfetto va avanti guardalo che stile cazzo ahahah 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 si spazza le gambe ragazzi dopo un giro del genere impressionante tanto fa male si senti tutte un po' di varianti crampi ahia ah 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 Grazie a tutti. Beh, è un tantino peggiorata la faccetta. Appena appena eh. Andarvi, andrà piano. Wow. Sì, no, io dritto prima Voi che casino Quattro onda pesca a te bello bellissimo ottimo riprese niente ragazzi iscrivetevi tra un po' faremo la prova della nuova Rocky Mountain due settimane il 26 novembre la vado a prendere e almeno vediamo un po' come si comporta questo nuovo mostriciattolo di Rocky e vediamo tutte le innovazioni il motore, il display lo vediamo nell'insieme per bene ciao alla prossima un po' di Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti